Musica Hai paura che lo rubassi? No, 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 li lascio lì Oh, comunque io uso sempre il saluto iniziale con i miei ospiti Devo dire, vi faccio una confessione anche un po' perversa Lo uso sempre quando vi abbraccio per vedere quanto ho stato in forma, no? Perché sei duro come legno, sei durissimo Cioè vai avanti, hai tenuto il rinforzo della moto dentro No, ci teniamo, ci teniamo Bene, sei bello, bello, bello in forma Allora, non ci vediamo da un po' io e te L'ultima volta che ci siamo visti mi avevi proposto di fare una cosa che io ho un po' sviato Anche lì, un po' come ha fatto Zaia dicendo, no, un impegno, un impegno Mi ha proposto di andare in moto con lui, in pista, seduto, agganciato dietro E io che sono notoriamente un pavido Ho detto, beh, non lo so Da fare Prima o poi lo farò Prima o poi lo farò Ma è pericoloso, no? Secondo me no, perché Speravo in uno, no Alla fine sei aggrappato dietro Però invece di essere aggrappato al conducente In questo caso c'è questo maniglione Tu sei proprio, ti senti sicuro perché sei proprio aggrappato Ok Non puoi scivolare indietro E tu? Poi ci sono io che guido Vado molto più ad agio Ma quando mai? Ma quando mai? Attaccato? Come? Attaccato come ringhio In tre uomini alla gamba Però è da fare Beh sì, prima o poi giuro che lo farò Maggio 27-28 Però a sto punto porto le telecamere Facciamo la prossima stagione di Stasera c'è Catalan Se mai ci sarà La cominciamo La cominciamo A Misano Sì, lo facciamo Lo facciamo Lo facciamo Senti, ogni volta che si parla di grandi leggende sportive C'è sempre un racconto dello sportivo che hai iniziato da piccolissimo, da bambino Un po' open di Agassi A me aveva impressionato anche per la pressione che il padre gli metteva fin da bambino È stato così anche per te? No, no Assolutamente no Io mio padre è sempre stato appassionato di calcio Allenava una squadra Insomma io fa tutta la trafile Pulcini, esordienti Finché poi ho capito che il calcio non era proprio il mio sport Che vuolo giocavi? Io mezza alla destra Beh, vabbè sì dai lì Soprattutto poi mi facevano far l'ala perché correvo veloce Però detto questo ho capito che la moto era meglio E poi per caso sono arrivato E come l'hai provata però la moto la prima volta? Per caso ho seguito un amico a Vallelunga Sì Che è il circuito vicino a Roma E ho visto questo circuito per la prima volta Sono rimasto a bocca aperta È come entrare a Disneyland uguale Io ho detto ma che è una figata Voglio provare, voglio provare E ci ho messo un po' per fare il mio primo giro in pista E dopo un po' di sacrifici E alla fine un po' d'aiuto Sì Ho riuscito a farlo E mi hanno dato qualcuno Anche perché economicamente Il calcio è più facile Cioè se tuo figlio gioca a calcio Secondo me tuo padre era più contento Se gioca a calcio Assolutamente sì Ma poi c'è stato l'aiuto anche di mio zio Che era appassionato Molto Insomma Mi ha dato in là E sono stato fortunato E sono stato visto da Da una persona che era del mestiere E mi ha fatto fare questa prova E poi è nato tutto così E poi lì è nata una grande carriera Dicevamo prima Sei titoli mondiali Tra MotoGP e Superbike E le grandi carriere Correggimi se sbaglio Quando si parla di sport Sono ancora più belle Quando c'è la grande rivalità Cioè quando in uno sport C'è un bel dualismo E nel tuo caso ovviamente Era Valentino Rossi Sono quelli che ti ricordi Danno un'epicità al tutto Che è incredibile Con Vale insomma c'erano Sportellate in gara Interviste belle dritte Post gara belli dritti Anche in quel caso Adesso come siete? Come prima Come prima Come prima Come prima Diciamo che Sì abbiamo vissuto il momento Della grande rivalità E ovviamente è stata epica Perché Ha risaltato Sia me che lui Ma poi Finito quello Siamo tornati Ognuno al suo ruolo Cioè non è che Abbiamo una vita sociale Ci telefoniamo Ognuno ha Cioè diciamo che Per gli auguri di Natale Non è nei primi cinque A cui mandi il messaggio Ma neanche nei primi cinquanta Neanche nei primi cinquanta No Però Se serve lo metto Sì Però ecco In quei casi Visto che poi fate parte di un mondo Che evidentemente Vi porta a incontrarvi Quando ci si incontra Si fa più fatica Tenere freddezza Non so fate finta di niente Sì ma è proprio così Succede che Magari non ci si saluta neanche Ecco Diciamo che È proprio una rivalità È stata una rivalità È stata una rivalità Che poi Ovviamente È stata una rivalità Come si sta lì Rispetto anche a Roma Mi sembra Due città Molto Molto diverse Sì sì Roma ti offre Molto 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 E Monaco È molto piccolina Piccina Però vorrei sfatare Il mito Che si pensa Che se sei a Monaco Per forza Paillette champagne E feste L'idea è che sia un po' Un centro commerciale No Diciamo che io Ho una vita Veramente normale Basica Con degli amici Ma Non sono troppo Frequentatore Di quei posti Che può sembrare No La vetrina No Non è proprio così Certo Vive nel momento Del gran primo di Formula 1 Del master di tennis Quei grandi eventi Che io vado Perché sono belli da andare Sì certo Ma dopo di che Si fa vita Tutto sommato Io ho i miei figli Di vicino Con la mia ex compagna Dunque Una vita normale Lo senti anche tu Non male Credo che stia arrivando Da qua Lo sentite anche voi Il bacon Questo è bacon Vero Siamo con l'orario Aspetta Si può Possiamo riaprire Un attimo Il collegamento Non c'è Ah non c'è Non si sta facendo Però questo è bacon Senza discussione Senti Ho visto un video Purtroppo non possiamo Far vedere le immagini Dove eri Su un rettilineo A fare i 470 km all'ora Su una moto Una roba da marchi Ho pensato Ma sei pazzo Esatto 470 km all'ora Cosa senti addosso Nel corpo Senti poco Perché era una moto elettrica Sì Rumore zero Però senti Ovviamente Le turbulenze Ma dove eri Perché un rettilineo Per riuscire ad arrivare A 470 Ero in Florida Al Kennedy Space Center Dove lo shot Ah certo Ah sì 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 Ed è stato pazzesco Perché ci abbiamo messo 14 giorni Per fare quel lancio Per fare quella velocità Perché il vento Era il problema più importante Avevi il vento contrario No ma il vento Basta che c'è anche Il vento laterale Diventa pericoloso Beh ma lì Anche un sassolino Per terra Infatti era abbastanza liscio Era molto curato E la cosa strana È che noi partivamo La mattina alle 5 Perché come il sole Comincia a uscire Inizia a salire il vento È proprio una Una cosa Scientifica Ecco Sì 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 Praticamente noi Sfruttavamo quei 10 minuti Per poter prendere Il meno vento possibile E ugualmente al tramonto Quando il sole scendeva Tra l'altro Andando ai 470 km all'ora Se parti alle 5 Quando hai finito Sono le 4 Perché vai indietro È una roba 470 è una roba È una roba incredibile È pazzesca Però ecco Ti dicevi prima Era una moto elettrica Adesso stanno Lo sport dei motori Sta puntando tanto Anche sull'elettrica Diciamo che strizza Un po' l'occhio Verso il green A me era capitato Di assistere A una gara a Roma Di Formula 1 elettrica Formula E Ok Beh è comunque spettacolare È molto spettacolare Diciamo che L'immaginario delle persone C'è il rumore C'è la velocità pazzesca La Formula 1 Dunque diventa Che è una cosa che piace Molto Nella forma Sì Però è un avvantaggio Che puoi farlo Nel centro di città Certo Perché non c'è problema Di inquinamento Il rumore Ma la moto invece Diciamo che Sta iniziando Ci sono i campionati Del mondo di moto E Moto elettrica Però non ci sono Le case coinvolte Ce n'è solo una Non la vede ancora Nello sport a motori Una competizione Autosufficiente Che può attrarre Le stesse persone Ok Ci sarà eventualmente tempo A proposito di mondiale Sta per partire Parte domenica Parte domenica Come li vedi I nostri ragazzi Da noi era venuto Pecco Bagnaia Mancavano due giornate Alla fine Li abbiamo portato bene Eh li abbiamo portato bene Meno male Giuro avevamo Una tensione Perché era Credo un punto sotto E mancavano due gare Le ho vissute anch'io Con tensione Perché ho detto Mamma mia Speriamo Ah che non si faccia male Innanzitutto E poi è andata bene Pecco è il campione Il mondo in carica Con Ducati Difenderà questo titolo Lo vedo in forma Lo vedo come favorito Io spero che L'apriglia per esempio Che è l'altra azienda italiana Coinvolta Può lottare per il mondiale Insieme a Ducati Fino alla fine I giapponesi Fanno un po' più di fatica Yama Honda Però sarebbe bello Un derby tutto italiano Ma per noi Che siamo tutti italiani È fantastico Speriamo Speriamo Prima hai nominato I tuoi figli Sono appassionati Anche loro di motori Potrebbero seguire Le tue tracce In qualche modo Non gli interessa Per niente Mia figlia no Il mio figlio Ogni tanto prova La butta lì Ma io lo smorzo Netto Perché Perché da genitore Perché finché sei tu Che ci vai sopra Forse ti preoccupi anche meno Non hai Da genitore Deve essere tosta Vedere tuo figlio Andare a quella veloce Sapendo conscio Dei rischi Che porta questo Mestiere Questo hobby Come lo vuoi chiamare Lo vorrei tenere Un po' lontano Cosa vuol fare lui? Lui gioca basket Ah perfetto Perfetto Una bella palla Tiri dentro Così Al limite un dito lussato L'altro gioca tennis Perfetto Perfetto Perfetto